Simona Gregori è l'assessora della cultura del comune di San Severino Marche. I teatri di San Severino sono aperti per ferie e tanti gli appuntamenti anche nei mesi della primavera e dell'estate. Sì, non abbiamo voluto lasciare sguarnito questo periodo della stagione perché negli anni passati abbiamo avuto un gran riscontro. Ci sono due importanti novità in questo cartellone che sono l'iniziativa Altri Luoghi e soprattutto il cartellone del Cinema San Paolo. Una promozione importante soprattutto grazie all'aiuto di questi volontari che riescono a tenere aperto questo importante presidio culturale della città di San Severino che è appunto il Cinema San Paolo. Quindi una collaborazione a 360 gradi anche per la cultura della vostra città. Sicuramente c'è un gruppo di volontari che lavorano all'apertura del Cinema San Paolo e questo è veramente molto importante perché significa che comunque la città è sensibile alle iniziative culturali, è sensibile alle esigenze dello sviluppo culturale della città e vediamo che non solo i volontari ma anche gli imprenditori che stanno investendo nel settore turistico in città stanno comprendendo le opportunità date dal turismo e dalla cultura in città. I teatri di San Severino sono aperti per ferie, Francesco Rapaccioni per il quinto anno consecutivo, dunque gli amanti del teatro avranno la possibilità di gustarlo anche nei mesi estivi? Sì, come sempre diciamo teatro non solo perché teatro a San Severino significa teatro in senso stretto, concerti, cinema, incontri con l'autore, quindi tutto quello che riguarda l'attività teatrale. Il modulo è lo stesso dell'invernale che viene replicato anche in fase estiva per fare sì che i teatri e gli altri spazi vivano tutto l'anno e consentano a cittadini interessati di godere di possibilità di incontro per tutto l'anno. Dal cinema al teatro, passando per la danza e anche con un occhio diciamo rivolto ai più giovani, agli istitui scolastici? Sì perché la formula è la stessa che noi utilizziamo per l'inverno, per cui ogni teatro si differenzia un po' per un genere specifico. Al San Paolo il cinema viene presentata una programmazione di sei film attualissimi, di genere diverso, però molto interessanti, con una formula sicuramente conveniente per il pubblico perché ogni ingresso costa 5 euro, però è possibile fare una tessera promozionale con sei film a 20 euro, quindi davvero un costo quasi irrisorio che però consente al cinema di avere delle risorse economiche per poter ovviamente andare avanti. Poi all'Italia si tengono gli incontri con l'autore e le altre culture, una parte di questi sono riservati alle scuole perché così si concretizza il progetto scolastico di scuola a teatro. In un doppio modo progetto scolastico perché sono incontri a cui gli studenti partecipano per assistere a un autore che parla, Gerardo Colombo, il più famoso per tutti, ma anche autori famosi per l'infanzia come Marco Moschini e Yvonne Mesturini. Ma ci sono anche due spettacoli fatti dalle scuole, per le scuole e per la città. Invece al Teatro Ferronia la formula è quella di prosa, musical, balletto e concerti. In questo caso non sono organizzazioni che afferiscono direttamente la direzione artistica, ma sono l'effetto di un territorio vivace che si esprime anche nel Teatro Ferronia.